gentili telespettatori ben trovati da andrea di pre questo andrea di pre per il sociale in versione musicale oggi perché la piccola ma grandissima ospite qui presente è una cantante vive vicino a breccia in un luogo che non posso precisare quanti anni hai nove porco dio quanti anni hai scusami nove porco dio nove anni pensate sono nove anni e già canta come le più grandi cantanti mondiali come ti chiami mary vaffanculo mary avete visto già una carica una grinta incredibile a nove anni soltanto e vi ho detto e mary e quindi cosa vuoi dire a tutti quelli che poi verranno ai tuoi concerti vaffanculo dio porco allora siamo pronti per sentire alcune alcune canzoni di della piccola mary si vaffanculo è già carica è già pronta per esprimersi sono tre best seller tre canzoni totali la prima con la madre e il fratello e poi avremo e poi avremo anche altri grandi suoi amici però beh mi dico lo che vuoi adesso con la massima libertà se se viene a casa mia ti sparo col fucile dio porco ma questo è il tuo slogan finale sì poi ripeto dio porco dio ma che succede a fretta di esibirsi ma puoi dirci ai nove anni giusto sì sì porco dio grande bravissima perché già determinata ora siamo pronti ma chi cazzo ha chiuso la luce ora siamo pronti per partire ora mary sei pronta per partire sì porco dio andiamo prima canzone come si intitola la mia linea è molto gialla no la quella la fai per ultima l'altra ma che si chiama no no è presa diretta non c'è problema come si chiama la mia faccia è la fata vaffanculo a te no no quella è la seconda ah vaffanculo a te ah giusto ecco vaffanculo a te la canta fra poco baby mary ascoltate andiamo alziamoci partiamo e allora siamo pronti per sentire la piccola baby mary e ma vediamo anche chi fa parte di questa canzone qui c'è la madre eh sì che si chiama tua mamma graziella graziella allora soddisfazione qui per questa canzone che sta andando un tormentone sì mi piace che canta mia figlia vedete anche la pistola a indicare che qui non si scherza sì e poi il fratello Attiglio 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 sono contento che Mary canta e si diverta giusto e allora sentiamo subito questo primo grande successo intergalattico prego prego alla regia io sono la biffa che balla il magico illo ballo che balla in tutte patica vai vai Io sono la bimba che balla il magico Ballo che ballano tutte le spate come me Io sono bella e vaffanculo a te Io sono la bimba che balla il magico Ballo che ballano tutte le spate come me Io sono bella e vaffanculo a te Io sono la bimba che balla il magico Ballo che ballano tutte le spate come me Io sono bella e vaffanculo a te Io sono la bimba che balla il magico Ballo che ballano tutte le spate come me Io sono bella e vaffanculo a te A me è piaciuto cantare davanti a tutta la gente Che vedono il video Mi sento Che dice Adesso ciao E' un capolavoro fantastico Consiglio Buon suo Buon suo Buon suo Buon suo Grazie. Allora, oggi è il 21 marzo 2016, con questo video messaggio autorizzo Andrea Di Pre, che è qui con me adesso, ad utilizzare l'immagine di mia figlia, che si chiama Mary. Il 25 del 4 del 2006, ecco, su qualsivoglia, per via internet o per altri mezzi multimediali? Ecco, autorizzo altri sì, senza nulla pretendere, alla pubblicazione di tutto questo, che Andrea Di Pre si ha filmato, a filmato in, 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 presso, cos'è? Ok, presso sarà la casa di c***o che si trova a c***o, in via, e numero, Fabio che numero è? 27, grazie, grazie, perfetto.